Eccoci qua e benvenuti in un nuovo video! Io sono Andrea Di Giglio, chef pasticciere, professionista dal 2004 e dal 2020 ho creato la mia academy online di pasticceria, la Di Giglio Academy, ovvero un'academy di pasticceria professionale dove all'interno abbiamo creato tantissimi corsi di formativi, quindi dalle corso di base, il corso dei lievitati, il corso della pasticceria classica e moderna, il corso dei lievitati, della pasticceria da forno, il corso delle bilanciature, della pasticceria sassata, della panificazione, insomma un'academy completa di pasticceria. Se sei interessato infatti a capire la pasticceria a fondo, diventare veramente bravo in pasticceria, ti invito ad andare qui sotto nel link in descrizione che troverai il link per andare in academy e vedere i nostri corsi formativi. Il link è per parlare con l'assistenza anche su WhatsApp e qui sotto trovi anche il mio sito, le recensioni dei nostri studenti o ti puoi iscrivere alle masterclass gratuite di pasticceria. Quindi qui sotto nel link in descrizione trovi veramente tutto. In questo video se sei una persona che non mi conosce, che magari viene da YouTube, quindi ha visto qualche ricettina online, devi sapere che quelle ricette, quei video che hai visto su YouTube sono qualche estratto dei nostri corsi. Ad oggi i nostri corsi contano... Praticamente 400 video lezioni, 130 ore di formazioni e centinaia, centinaia di studenti da tutto il mondo. Infatti io sono il formatore di migliaia di studenti da tutto il mondo. Abbiamo aiutato già centinaia di appassionati, aspiranti pasticceri, professionisti e titolari di attività a diventare veramente bravi in pasticceria. Abbiamo appassionati che grazie ai nostri corsi sono diventati veramente bravi e alcuni ci hanno lasciato delle recensioni incredibili, dove hanno imparato molto di più da noi che andando addirittura in percorsi formativi scolastici, ma questo lo dicono loro e ovviamente non lo dico io, e aspiranti pasticceri, invece che grazie ai nostri corsi hanno potuto poi immergersi nel mondo del lavoro. Quindi abbiamo aspiranti pasticceri che veramente sono diventati dei veri pasticceri, abbiamo professionisti che hanno migliorato e hanno addirittura poi aperto delle pasticcerie, oppure titolari di attività, che abbiamo tantissimi studenti che avevano dei panifici, avevano dei catering, dei ristoranti, degli hotel, che poi, o delle pasticcerie, che poi hanno aumentato i fatturati grazie ai nostri corsi. Quindi se rientri in questa categoria tra appassionati, aspiranti pasticceri, professionisti e titolari di attività, io ti posso aiutare. Infatti con la nostra Academy abbiamo già aiutato migliaia di studenti in tutto il mondo. Siamo l'Academy con il più alto tasso di videotestimonianze in assoluto. Abbiamo corsisti da tutto il mondo, perché i nostri corsi si possono vedere da tutto il mondo, comodamente da casa, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Abbiamo incluso la garanzia, abbiamo incluso tutti i bonus, insomma, sono dei corsi meravigliosi in cui ti puoi formare comodamente da casa tua. Ed è un vantaggio, perché devi sapere che molte scuole dal vivo devi andare lì, quindi c'è il tuo tempo vivo. E per chi lavora è molto complesso. Devi sapere che per molti i costi di alcune scuole sono proibitivi, quindi ovviamente l'online ha tantissimi vantaggi. Ti racconto un pochino di me, ti racconto il mio processo, diciamo, come sono diventato oggi il formatore di migliaia di persone nel mondo. Devi sapere che io ho iniziato come cuoco, quindi io sono proprio cuoco. E ho iniziato al Four Season Hotel di Milano nel lontano 2004. Quindi ho iniziato come stagista, pela patate, lava lattuga. E nel tempo sono diventato un cuoco. In pochi anni capopartita, su chef, chef, fino a gestire anche brigate di cucina. Ristoranti, hotel, sono diventato consulente, quindi ho scalato velocemente quello che era la cucina. E ho imparato praticamente tutte le basi di cucina, quindi io prima di tutto sono uno chef di cucina. Poi negli anni mi sono specializzato in pasticceria, quando un giorno lavoravo in un ristorante molto rinomato e passa davanti a me un pasticcere che faceva dei gioielli, non faceva dei dolci. E da lì ho, insomma, mi sono innamorato della pasticceria e ho iniziato a approfondire. E ho iniziato a comprare libri di settore, fare corsi di formazione con chiunque mi potesse insegnare qualcosa, sia dal vivo, sia nelle scuole, sia online. Sono andato a conoscere personalmente Pierre Hermé a Parigi, Adriano Zumbo in Australia. Insomma, ho fatto veramente un percorso molto intenso per imparare la pasticceria, perché la pasticceria, come la cucina, ovviamente bisogna andare a fondo delle cose, ed è molto tecnica, no? Perché anche la cucina è molto tecnica, non si può banalizzare. Però la pasticceria veramente è da studiare tanto, perché la bilancia la fa da padrona, perché è una scienza perfetta. E quindi nel tempo ho voluto studiare pasticceria e mi sono formato negli anni. Ho fatto consulenze per aprire pasticcerie, nel tempo ho lavorato in tanti laboratori e poi sono diventato il consulente di tantissime pasticcerie, laboratori, hotelle, ristoranti. Ad oggi praticamente faccio menu, menu per ristoranti, menu per pasticcerie, consulenze sul posto, quindi aiuto veramente tantissime persone a migliorare in quello che è la pasticceria. Il punto cardine di quello che mi ha fatto diventare chi sono oggi fondamentalmente è la formazione. Quindi il messaggio che ti voglio dare è di non limitarti a andare su YouTube, anche se questo video lo stai guardando probabilmente su YouTube, di non limitarti a copiare la ricetta del food blogger di turno, ma ti invito veramente a studiare, perché la formazione dura per sempre. Questa cosa è molto importante, perché studiare e formarsi è una cosa che non si perde mai, è una cosa che ti rimane, è una skill immortale, è una capacità immortale, ok? È un'abilità che non perderai mai. Quindi formarsi, la testimonianza dei nostri studenti dimostra proprio la trasformazione che avviene quando iniziano a studiare, da quando si limitavano ad aprire un ricettario o guardare il food blogger di turno che gli mostrava come fare un prodotto. Perché devi sapere che lì fuori la maggior parte dei YouTuber, food blogger, eccetera, sono persone che si copiano le ricette l'un l'altro, ma nessuno ci ha mai capito niente. Perché devi sapere che la ricetta, qualunque ricetta tu prendi, è una proporzione tra ingredienti perfetta, ok? E sbagliare di poco una ricetta vuol dire veramente ottenere o un pessimo risultato o un ottimo risultato. Poi ovviamente oltre alla bilanciatura, alle ricette, ci vuole tanta maestria. Quindi la pasticceria è fatta anche di tanta tecnica che va vista a fare da una persona brava, ok? Non basta semplicemente prendere una ricettina. Anche le temperature sono importanti, il tempo, la maestria, come si impasta. Quindi è veramente tutto molto più complesso di quello che ti fanno credere in molti video tutorial. Bisogna andare a fondo delle cose. Però una volta capito il metodo, in generale, in qualunque ricetta, e capito un po' la bilanciatura, sei libero. Sei libero e non sei più schiavo delle ricette in generale. E questo poi fondamentalmente è il nostro metodo di insegnamento. Perché noi in Academy diamo tantissima formazione video, libri, consulenze, ma soprattutto la mia assistenza. Infatti aiuto centinaia di corsisti da tutto il mondo, ormai migliaia di corsisti da tutto il mondo, proprio per fargli capire a fondo le cose. Infatti le testimonianze che puoi vedere anche sul nostro sito, www.andregio.it, o nella nostra Academy, DG Academy, sono incredibili. Devi sapere che noi abbiamo il più alto tasso di video testimonianze in assoluto, ok? In assoluto. Quelle video e quelle scritte. Siamo tempestati di video testimonianze perché ovviamente il nostro metodo è un metodo efficace che funziona davvero. E quindi tornando a quello che ti stavo dicendo prima, da cuoco sono passato a pasticcere e ho studiato. Ho studiato tanto, vent'anni che mi formo, quindi non sono due giorni. E il messaggio che ti voglio trasferire è se vuoi veramente diventare bravo nel tuo settore, in questo caso in pasticceria ma anche in cucina, devi studiare, ok? Devi studiare. Non me ne vogliono, ma non puoi seguire la mamma o la nonna perché arriverai fino a un certo punto e non puoi seguire il food blogger di turno perché arriverai fino a un certo punto. Le informazioni vere si prendono da persone che hanno studiato e sono andato a fondo delle cose. Non puoi prendere le informazioni da qualcuno che si è limitato a copiare quello di turno, ok? E quindi ho creato quest'academy e dal 2020 appunto aiutiamo tantissime persone nel mondo. Devi sapere che anche il processo di crescita non è veloce, ci vuole un po' di tempo. Ovviamente copiando una mia ricetta collaudata non sbagliate, andate subito in pochissime lezioni e riuscite a ottenere risultati sorprendenti, ma diciamo il processo di crescita per diventare bravo come un pasticcere è un processo e ci vuole anche il suo tempo, ma una volta che lo diventi la formazione non te la leva più nessuno. Ad ogni modo ti ho spiegato un pochettino in questo video come posso aiutarti. Se stai guardando questo video e non mi conosci, sappi che qui sotto ci sono tutti i link per andare a nostra academy, parla con l'assistenza. Se sei un mio corsista ti saluto e ad ogni modo che dire, io spero di vederti in un altro video e ci vediamo in un altro video. Ciao!